Ciao a tutti da Eleonora, questo è il termoventilatore Vertical Edge di De'Longhi. Si tratta di una stufetta con elettroventola e come potete vedere si presenta con un design semplice e compatto. Misura 33,5 cm di altezza, 14,6 cm di lunghezza e 22,9 cm di larghezza. Il suo peso è di circa 1,2 kg. La parte frontale presenta due rotelle di controllo dedicate una alla velocità di ventilazione e una all'aumento della temperatura. Subito sotto invece è presente la ventola e ancora sotto il logo De'Longhi. Le comode maniglie poi facilitano lo spostamento da una stanza all'altra. Si tratta quindi di un dispositivo pratico e maneggevole e anche leggero. I tre livelli di potenza sono 2400 watt, 1150 watt, 850 watt e consentono di ottimizzare i consumi energetici, di regolare e controllare i livelli di calore in base alle caratteristiche di ogni stanza e quindi alle preferenze personali. Inoltre questo dispositivo è appositamente progettato con un sistema di protezione contro le perdite d'acqua. Ma non è tutto! Grazie alla protezione IP21 il termoventilatore è ideale per essere utilizzato anche in bagno. Concludendo quindi il termoventilatore Vertical Edge De'Longhi funziona bene, fa il suo dovere e il prezzo è davvero vantaggioso. Unico punto a sfavore è forse il fatto che sia un po' numeroso, però per il prezzo va bene lo stesso. Potete trovare il termoventilatore Vertical Edge De'Longhi su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace e se vi va lasciateci un commento qui sotto. Vi invito a supportare il nostro lavoro iscrivendovi al nostro canale YouTube e attivando la campanellina. Ciao e al prossimo video!